Epidemia nell'area berica, positivo il 10% dei tamponi effettuati, 26 morti in tre giorni. Assalto nelle città durante il fine settimana, Zaya e Sindaci annuncia restrizioni in arrivo per Natale. Ristoranti in clausura anche per le feste, limitazioni fanno infuriare Confartigenato, è il colpo del K.O. Danni e sondazioni, Francesco Rucco incontra i cittadini, vi aiuteremo a ottenere risarcimenti. Violenza sulle donne, apre uno spazio d'ascolto protetto dove fare denuncia ai carabinieri. TG Vicenza, una buona serata a tutti voi telespettatori, ben ritrovati nei nostri studi. Subito in primo piano diamo uno sguardo alle variazioni Covid inviate da Azienda Zero per vedere i nuovi casi positivi che si sono registrati nella giornata di oggi. Si contano 1.653 nuovi casi positivi, un totale di tamponi positivi di 195.123. Andando a vedere la situazione negli ospedali in area non critica, in terapia intensiva, c'è una buona notizia per l'area non critica perché vedete questo meno 15 sono uscite quindi 15 persone, 15 pazienti dall'area non critica. Ne sono entrati 4 di nuovi invece nella terapia intensiva e andando a vedere nello specifico 2.631 i ricoverati in area non critica positivi, 349 i ricoverati positivi in terapia intensiva. 55 sono invece le persone che nella giornata odierna hanno perso la vita nei nostri ospedali, negli ospedali della regione Veneto. Per quanto riguarda la situazione invece all'interno dell'Ulsa ottoberica, da venerdì scorso in tre giorni sono stati eseguiti 11.628 tamponi, 1.156 positivi, ossia il 9,9%. Il numero dei decessi è sempre molto alto, 26 in tre giorni, sono 1.062 i guariti nelle ultime 72 ore. Intanto il tema degli assembramenti è stato al centro del punto stampa odierno del governatore Zaia che ha annunciato un provvedimento che verrà concordato anche con i vari sindaci. Ci ma sentiamo. Guardate che lo spettacolo in mondo di tutto quello che è accaduto in giro per l'Italia e anche in Veneto, nonostante la crisi, nonostante il collasso che sta subendo la sanità, è indescrivibile. Il tema degli assembramenti visti nel fine settimana è stato al centro dell'incontro convocato dal presidente Zaia con i sindaci del Veneto per trovare misure comuni con eventuali provvedimenti adottati dal governo che saranno la base di partenza. Ne verremo fuori una soluzione che poi vi confermerò alla volta penso di domani e cercheremo di capire cosa fare. Fermo restando che immagino che anche a livello nazionale qualcosa si farà. Zaia che ricorda come il diveto di assembramento sia previsto non da un DPCM ma dalla legge dello scorso 16 maggio. Faremo un'ordinanza che impone l'applicazione della legge di maggio. Sul fronte contagio e ricoveri i dati mostrano un timido rallentamento nella crescita della curva ma la pressione sugli ospedali rimane ancora molto forte. In area non critica si registrano mille ricoverati in più rispetto al picco di marzo, 17 in più in terapia intensiva confrontando la situazione della scorsa primavera. La pressione sanitaria comincia a essere una pressione importante. Abbiamo delle province che la subiscono ancora di più, in primis Verona, che purtroppo ha la maglia nera in questo momento, Per quanto riguarda la scuola, se da un lato il governatore spiega deve essere in presenza ma in un quadro epidemiologico sicuro, sono molti i docenti e i genitori che segnalano come in caso di una positività in classe non vengono eseguiti a scuola i tamponi su alunni e insegnanti. È comunque grave, è comunque grave perché è un disservizio e a noi interessa niente. Mentre restano invariate le linee guida nella gestione delle classi in presenza di casi positivi. Il protocollo che abbiamo presentato qui l'altra volta, qualche tempo fa, quando l'abbiamo avviato, non è stato modificato. Ed è molto dura la reazione di Confartigerato dopo che dal governo sono arrivate ulteriori restrizioni e clausura per i locali anche a Natale e Capodanno. In questi giorni sotto a Natale normalmente lavoravano sei, otto cuochi, due lavapiatti e almeno una decina di cameriere. Oggi, come potete vedere, siamo chiusi, completamente chiusi. Ci mostra la cucina desolata del suo ristorante, Cristian Malinverni. Ci mostra il silenzio, la sala deserta. Gli indennizi promessi dal governo fino ad oggi sono ridicoli rispetto ai danni riportati dai locali messi in clausura dai DPCM. E ora si va verso un Natale e un Capodanno di magro. La situazione della ristorazione nella provincia di Vicenza è veramente drammatica. Tantissimi miei colleghi non apriranno mai più. I DPCM di metà ottobre ci hanno rimesso in ginocchio dopo che eravamo riusciti a rialzarci dopo le chiusure di marzo e aprile. Ora la chiusura nel periodo natalizio per noi è il K.O. finale. È una follia chiuderci il giorno di Natale, dandoci solo la possibilità di ospitare gli abitanti del proprio comune. È molto discriminante un ristorante che è in una città ha un bacino di utenza di un milione di persone. Un ristorante a Posina di 150. Noi chiediamo un aiuto reale, concreto, almeno per quel giorno lasciarci aperti. Chi prenota nei ristoranti almeno può avere un lascia passare per girare nei comuni della provincia, quanto meno della provincia. E poi chiediamo ristori sicuri, non la presa in giro che abbiamo avuto fino adesso. È veramente un'assurdità. Un'altra situazione critica è quella che stanno vivendo i residenti di strada. Da sette cari, ricorderete l'area di Vicenza finita sott'acqua, tanti allagamenti, causa esondazioni. Il sindaco Rucco ha incontrato i cittadini e ha detto stare tranquilli, vi aiuteremo a ottenere i risarcimenti. Cosa chiedete alle istituzioni? Un aiuto concreto. Un aiuto concreto. Questo era l'appello lanciato dai residenti di via Cassette a Vicenza. Famiglie travolte dall'esondazione della roggia caveggiara, proprio ai confini con torri di Quartesolo. Una voce a cui noi di Rete Veneta abbiamo voluto dare spazio. Un grido di dolore che non è caduto nel vuoto. No, perché dopo il nostro servizio il sindaco e presidente della provincia, Francesco Rucco, ha voluto venire a visitare personalmente questi cittadini disperati e le loro case, disastrate dall'acqua. Siamo contenti che sia venuto, che così sia reso conto. Il problema grosso è tutto quello che avevamo dentro lì. Sono le due macchine, tre macchine da buttare, due moto, di cui un laguzzi di mio padre del 73. E va bene. Ancora in grande commozione la gente, chi ha sofferto, ha ancora gli occhi lucidi. Sì, è naturale. Abbiamo vissuto l'alluvione del 2010 e sappiamo benissimo quali sono le conseguenze, anche morali, ma materiali, che sono altrettanto importanti. Cercheremo adesso di assistere alle persone nel ristoro, nel risarcimento dei danni, attraverso anche delle figure professionali che possano dare sostegno senza spese a carico dei cittadini. Qua dentro c'è praticamente tutto quello che serve per il mantenimento di un giardino, dal rasa erba, tagliare, cespugliatore, trattorino per tagliare l'erba, il motocoltivatore, i vari motocoltivatori che avevamo. Tutto da buttare via. Allora, visto fuori i tappeti, ci stiamo riscaldando col camionetto che abbiamo, perché naturalmente le caldaie sono fuori uso, la vastoviglia è fuori uso. Sindaco, che cosa diciamo a questi cittadini in conclusione di questa visita? Sicuramente danni importanti ci siamo e cercheremo di fare da punto di riferimento anche nella parte dei risarcimenti e quindi lavoreremo sia verso la regione che eventuali altre responsabilità che dovessero emergere. E siamo alla cronaca con l'arresto di una donna di 36 anni che era scappata dall'Austria con il figlio minorenne. Un controllo come tanti sulle strade del Vicentino. Le volanti da mesi sono impegnate a monitorare la situazione e il rispetto delle disposizioni anti-Covid. Ma nel pomeriggio di ieri qualcosa insospettisce la pattuglia della questura di Vicenza. Una macchina con targa austriaca alla vista della polizia inizia ad accelerare. Si accendono le sirene, si abbassa la paletta, alt. Nell'abitacolo, quattro nigeriani, tra cui un ragazzino con la madre. La donna ha un controllo più approfondito. Risulta destinataria di un mandato d'arresto europeo. Le autorità austriache, infatti, l'hanno segnalata alcuni giorni fa perché disattendeva agli obblighi di custodia e mantenimento del figlio facendo perdere le proprie tracce e quelle del minore. Costretta ad affidare il figlio alle locali autorità aveva invece eluso il provvedimento mettendosi in fuga assieme a due connazionali che sono stati denunciati per concorso in sottrazione di minore. La 36enne è stata arrestata e portata nel carcere di Venezia dove ci sono strutture per assistere il ragazzino in attesa di ulteriori disposizioni dell'autorità giudiziaria. Una stanza speciale protetta di ascolto dedicata alle donne vittime di violenza è stata inaugurata proprio questa mattina alla caserma dei Carabinieri di Torri di Quartesolo. Una stanza tutta per sé è il progetto nato nel 2016 che intende offrire alle donne sottoposte a violenza uno spazio di ascolto protetto e di raccolta delle denunce all'interno delle caserme territoriali dei Carabinieri. Dopo due ville a Torri di Quartesolo è stata inaugurata la seconda stanza di questo tipo in ambito provinciale uno spazio curato anche negli arredi dove offrire riservatezza e tranquillità. È un posto dove la persona che ha subito violenza si possa trovare più e più possibilmente a suo agio in un ambiente non militare e quindi è un posto dove si possa aprire meglio e possa raccontare quello di cui è stata vittima. Quindi lo ritengo un servizio molto importante e ringrazio di nuovo l'arma dei Carabinieri e Sor Optimist che hanno pensato alla stazione di Torri per questo servizio. Chi accoglierà le donne che verranno lì? Saranno dei militari appositamente formati per poter dialogare sia con le mamme sia con le donne vittime di violenza sia con i figli, con i bambini che ci sono purtroppo spesso o quasi sempre che hanno anche loro subito violenza. Classifica della qualità della vita tra le 107 province italiane sono stati resi noti i risultati secondo il giudizio del Sole 24 Ore. 25esimo in Italia seconda assoluta in Veneto dopo Verona così la città di Vicenza si è piazzata nella classifica nazionale secondo l'annuale indagine del Sole 24 Ore. Un risultato positivo che attesta la tenuta della qualità della vita nonostante il Covid secondo il sindaco. Vanno sempre prese con le pinze naturalmente questo tipo di sondaggi noi chiaramente li prendiamo per quello che vengono e la notizia positiva che siamo secondi in Veneto come regione che ha gestito come Vicenza città una situazione la provincia stessa una situazione complessa legata al Covid quindi i requisiti cambiano rispetto all'altra classifica e nonostante il Covid Vicenza si piazza positivamente a nostro modo di vedere. è chiaro che quello che è importante è che abbiamo nonostante il Covid mantenuto dei livelli positivi nonostante tutto soprattutto in tema di servizi sanitari che devo dire che a livello nazionale sono tra i migliori d'Italia. Solo due settimane fa Vicenza era stata collocata al terzo posto nazionale secondo l'indagine dell'Università La Sapienza di Roma diversi i parametri presi in considerazione tra quelli presi in esame oggi una curiosità il piazzamento al secondo posto della città america come realtà con il minor numero assoluto di giovani in It a Vicenza cioè i cosiddetti bamboccioni quelli che non studiano né lavorano sono davvero pochi rispetto alla media nazionale. Il distretto, quello nostro è tra l'altro la società la città che ha più risultati in termini industriali devo dire che i nostri giovani sono ragazzi che studiano o che lavorano quindi si rimboccono le maniche che è una caratteristica del vicentino. E torna come ogni anno l'attesa rubrica dedicata ai vostri presepi allora inviateci un video con il telefono tenuto orizzontalmente mi raccomando una fotografia del vostro presepe noi le manderemo in onda nei nostri telegiornali e le natività più belle tra l'altro verranno anche pubblicate nella pagina Facebook e sul profilo Instagram di Rete Veneta e allora il presepe che vi mostriamo questa sera è quello realizzato dalla famiglia Zanaga di Sossano Buongiorno Rete Veneta ben arrivati questo è il presepe di quest'anno a partridge in a pear tree On the second day of Christmas my true love gave to me two turtle doves and a partridge in a pear tree On the third day of Christmas my true love gave to me three French hens two turtle doves and a partridge in a pear tree On the fourth day of Christmas my true love gave to me four calling birds three French hens two turtle doves and a partridge in a pear tree On the fifth day of Christmas my true love gave to me five golden rings A tutto lo staff e ai telespettatori di Rete Veneta apporgo i miei più sentiti auguri di buone feste Prima dei saluti ricordo alle 20 l'appuntamento con Sporti in Casa condotto dal nostro Alex Iuliano una puntata dedicata alla serie D e al mercato con il nuovo attaccante italo-brasiliano della lupa rense Francesco Finocchio alle 21 e 15 invece l'appuntamento come sempre è con focus allora ospiti questa sera saranno Sonia Brescacin Angela Colmellere Michela Finizio Roberto Marcato Alessandra Moretti Annalisa Nalin Rosa Poloni Elisa Venturini e Francesca Zaccariotto questo per noi è davvero tutto grazie per essere stati in nostra compagnia un buon proseguimento di serata vi lascio le previsioni del tempo arrivederci benvenuti al meteo temporaneo stop all'inverno anticiclone in rinforzo sull'Italia ma non senza qualche insidia il dettaglio di martedì 15 dicembre sul Veneto sarà una giornata con cielo molto nuvoloso e spesso coperto non mancheranno anche delle foschie o nebbie in pianura e nelle valli tuttavia in parziale sollevamento con il passare delle ore non sono comunque attese precipitazioni temperature stazionarie minime tra lo 0 e i 4 gradi valori massimi oscillanti invece tra i 7 e i 9 gradi all'incirca ci spostiamo ora a Vicenza in città ma anche in provincia la situazione sarà del tutto simile il cielo risulterà fin da subito fin dal mattino grigio e coperto ma non sono previste piogge particolarmente degne di nota non si escludono però anche qui locali nebbie o foschie nelle ore più fredde dal meteo di Rete Veneta è tutto arrivederci nuovo Renault Captur scoprilo nelle versioni benzina, diesel e GPL e con il motore E-Tech Plug-in Hybrid scegli tu quando guidare elettrico nelle concessionarie Rigoni Franceschetti di Vicenza e Tiene